Escritti numerosi a questo webinar, vedo che state entrando. Nel frattempo io vi ricordo alcune informazioni di base. Allora, questo webinar rientra tra le attività di un progetto che Formex realizza per Agid, che si chiama Informazione e Formazione per la Transizione Digitale, nell'ambito del programma Italia Login nella Casa del Cittadino. In particolare, questo è un evento che ricade all'interno della linea 1, Gestione per la Transizione Digitale dell'EPA del progetto. In particolare, vi ricordo che continuiamo a organizzare webinar su diversi temi, quindi su questo tema faremo i venerdì del 10, 17 e 24 marzo, a fare degli approfondimenti appunto sul tema della vigilanza e del controllo sugli obblighi di transizione digitale. Sono organizzati altri webinar di cui vi daremo notizia sempre sull'home page del Formex all'interno delle nostre pagine di eventi PA. Oggi la nostra esperta è l'avvocato Caterina Flick, che appunto ci introdurrà al tema, in particolare appunto ci illustrerà le norme e gli strumenti che Agid mette in campo per questo tema, perché il CAD, come sapete, attribuisce all'Agenzia per l'Italia Digitale dei compiti in materia di accertamento delle violazioni in riferimento a quelli che sono gli obblighi sulla transizione digitale. Allora, oggi la nostra esperta è l'unica relatrice e quindi io proporrei appunto di avviare una prima parte di mezz'ora a cui è possibile poi dare delle risposte alle domande che voi porrete in chat e poi di fare appunto una seconda parte che ci porterà fino alla fine, sempre con un spazio finale dedicato alle domande che farete in chat. Alcune delle domande che farete probabilmente troveranno risposta nei webinar successivi, quindi in questo caso vi rimanderemo all'iscrizione ai webinar successivi. A questo proposito vi ricordo che questi sono webinar singoli, quindi vi dovete iscrivere tutte le volte e poi sarà possibile alla fine del webinar, dopo aver dato una valutazione sul gradimento, scaricare l'attestato di iscrizione direttamente da sistema. Sulla pagina di Eventi PA, che è il vostro riferimento, quella da cui vi siete iscritti, troverete i materiali, quindi le slide che usa l'esperta e troverete anche la registrazione del webinar, a webinar concluso. Allora, io vi ringrazio, abbiamo fatto la prova audio e video con l'avvocato Flick e lascio la parola a lei. Microfono, perché non sentiamo? Ecco, grazie. Buongiorno a tutti, adesso dovrebbe essere funzionante. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti al primo di questo breve ciclo di webinar che abbiamo pensato di dedicare al difensore civico per il digitale e alla violazione degli obblighi in materia di transizione al digitale. Abbiamo pensato, insieme alle colleghe che poi si occuperanno dei successivi webinar, di dividerci il lavoro in maniera tale da consentire anche a voi, a noi, di spiegare meglio, di raccontare meglio quello che è tutto ciò che riguarda difensore civico, l'attività di Agile per il difensore civico, per il digitale e per il supporto, diciamo così, nella transizione al digitale, ma anche a voi di farci delle domande, chiederci degli approfondimenti in maniera che questo piccolo ciclo di webinar possa essere il più possibile utile a tutti quanti. Utile a tutti quanti nel senso che anche per noi dell'agenzia avere i vostri feedback e avere le vostre domande può essere molto utile anche per perfezionare quella che è la nostra attività sul campo. E quindi questo di oggi sarà una prima rapidissima carrellata su queste due importanti attività e su cui spero che avremo modo di dialogare nella prima e nella seconda parte di quest'oggi, ma soprattutto avere i vostri spunti grazie alle vostre domande per fare gli approfondimenti che poi seguiranno il 17 e il 24 marzo. E allora a questo punto partiamo dicendo che nel corso di questi anni c'è stato un cambio di prospettiva estremamente importante. Ricorderete perfettamente che fino al 2017 non c'era il difensore civico digitale. L'innovazione del famoso correttivo con il correttivo del 2017 ha accentrato presso l'agenzia per l'Italia digitale in quest'organo difensore civico per il digitale delle attività che precedentemente erano state indirizzate direttamente sulle pubbliche amministrazioni. Nel senso che vi ricorderete che le pubbliche amministrazioni dovevano costituire fin da allora degli uffici che potessero dare supporto nella quella che oggi si chiama la transizione al digitale e che all'epoca aveva forse dei nomi e delle definizioni meno significativi. Quindi con il 2017 si è avviata questa centralizzazione delle funzioni con l'istituzione presso l'agenzia dell'Italia digitale di un organismo, di un organo, non si è mai poi inizialmente soprattutto non si era ben compreso che tipo di ruolo dovesse avere, come dovesse svolgersi, questo difensore civico per il digitale. La norma all'epoca, l'articolo 17, diceva semplicemente che era istituito presso l'AGID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzi età, autonomia e imparzialità. E la cosa, quindi si dava questa indicazione di questo organo, non meglio definito ma da definire, la cosa importante è che è stata l'introduzione di questo principio, per cui chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso un'area appositamente costituita sul sito istituzionale, delle segnalazioni relative a presunte violazioni del codice e di tutte le norme in materia di digitalizzazione e innovazione della pubblica amministrazione. Su questo tema ci siamo trovati con una certa ampiezza, ampiezza, ampiezza perché il codice contiene, conteneva e contiene norme che riguardano gli aspetti più diversi, un'estrema ampiezza perché il codice è cambiato nel corso degli anni, molte norme sono state modificate anche in maniera significativa, proprio pochi giorni fa abbiamo avuto occasione di festeggiare il diciottesimo compleanno del codice dell'amministrazione digitale e ascoltando tutti gli interventi ci siamo resi conto di quanto effettivamente in questi diciotto anni siano cambiate le regole per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, per consentire ai cittadini di svolgere una cittadinanza digitale e queste regole sono cambiate perché è cambiato il contesto in cui ci muoviamo. Quando il codice dell'amministrazione digitale entrò in vigore tra il 2005 e il 2006 si stava ancora ragionando di elementi estremamente basici vorrei dire come era all'epoca il sistema di protocollo informatico, si iniziava a parlare di firma digitale, si iniziava a parlare di questo concetto della cittadinanza digitale ma ancora gli strumenti erano veramente molto molto pochi e quindi necessariamente con i cambiamenti che ha subito la nostra società è stato poi mano a mano necessario adeguare anche le norme rincorrendo in qualche maniera i cambiamenti della tecnologia. Per le pubbliche amministrazioni questi adeguamenti non sono sempre stati semplicissimi perché, e questo lo sappiamo perfettamente tutti, digitalizzare costa, costa moltissimo. Costa in termini di risorse umane nella loro formazione, noi siamo qui oggi per cercare di dare il nostro contributo anche su questo fronte, costa in termini di risorse proprio economiche necessarie per l'acquisizione di tutti gli strumenti che consentono effettivamente la digitalizzazione e costa sotto il punto di vista proprio della organizzazione perché l'organizzazione di una struttura con modalità utilizzando i sistemi digitali, interfacciandosi con i cittadini, con i sistemi digitali è abbastanza diversa da quella che era l'organizzazione tradizionale a cui siamo stati in molti abituati per molto tempo. E quindi queste sono le ragioni per cui, e poi ancora un quadro normativo che in alcuni aspetti non sempre è stato ben chiaro. Nel momento in cui parliamo di digitalizzazione di diritto del cittadino ad avere, ad interloquire con la pubblica amministrazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, come meglio si chiamavano in origine, è necessario affrontare tutta una serie di sistemi. Oggi alcuni di questi sistemi li diamo per scontati, diamo per scontato la posta elettronica certificata, diamo per scontato l'utilizzo della firma digitale, diamo per scontato l'utilizzo dell'identità digitale per relazionarsi, diamo per scontato di poter accedere a dei servizi delle pubbliche amministrazioni attraverso la rete, attraverso le piattaforme, quindi attraverso le tecnologie. Ma arrivare a questo punto è stato un percorso lungo e impegnativo. E quindi l'idea nel 2017 di istituire questo difensore civico per il digitale presso l'Agenzia per l'Italia digitale, aveva proprio come prospettiva quella di consentire un monitoraggio di carattere generale ed eventualmente un'assistenza anche alle amministrazioni, oltre che un punto di ascolto per i cittadini. Nel 2017, quindi, prevista questa possibilità per i cittadini, per chiunque di rivolgersi al difensore civico digitale, il difensore, segnalando le presunte violazioni, presunte ovviamente perché poi l'accertamento andava fatto, il difensore digitale si è strutturato per ascoltare il cittadino e per invitare effettivamente i responsabili della violazione in maniera da porre rimedio tempestivamente. L'indicazione del non oltre 30 giorni, che era un'indicazione teoricamente gestibile, concretamente non è sempre stata possibile gestirla. perché non oltre 30 giorni, perché non è possibile gestire sempre e comunque i 30 giorni, perché in 30 giorni certamente è possibile avviare le interlocuzioni, ma non è detto che poi la soluzione di un problema che si pone sia effettivamente gestibile in un lasso di tempo così breve. L'approdo finale del difensore civico per il digitale in quel periodo era quello di segnalare le inadempienze agli uffici competenti per i procedimenti disciplinari delle amministrazioni, però si trattava di un'attività che aveva poche possibilità di avere dei riscontri, cioè il ruolo che aveva il difensore civico era quello di sostanzialmente di una moral suasion verso le amministrazioni, ma senza poter fare molto di più. Forse l'aspetto più importante è stato proprio quello di fungere da punto di ingresso per i cittadini, qualcosa di diverso naturalmente da un ufficio di relazioni e delle relazioni con il pubblico, ma certamente un punto di ingresso nel quale chiunque, in particolare appunto i cittadini, avevano e hanno la possibilità di segnalare le loro problematiche o comunque le problematiche che incontrano nel rapporto con le pubbliche amministrazioni e non solo, perché in effetti il difensore civico digitale concentra la propria attenzione non soltanto sulle pubbliche amministrazioni, ma su tutti i soggetti che sono indicati nell'articolo 2,2, quindi fornitori di pubblici servizi, società partecipate e quant'altro. È chiaro che la possibilità di rappresentare problematiche rispetto a queste diverse tipologie di soggetti dipende dalle norme a cui si fa riferimento e dal fatto che gli obblighi riguardino effettivamente non solo le pubbliche amministrazioni, ma altri soggetti. Avremo modo poi di confrontarci sul punto nei prossimi incontri che avremo su, diciamo, le casistiche più concrete e sui destinatari della maggior parte delle segnalazioni che cosa è successo e come e come sono andate. Nel 2021, dopo un anno, oltre un anno di faticosissima pandemia che ha afflitto il nostro paese e non solo, si si era resi conto che era necessario un grosso cambiamento. Innanzitutto, lo sappiamo benissimo, quei due anni di pandemia ci hanno portato ad un cambio di prospettiva. Io continuo a usare questo termine che voi vedete come intestazione della slide, perché veramente abbiamo cambiato il nostro modo di vedere la digitalizzazione. I due anni di pandemia hanno portato ad una accelerazione incredibile dell'utilizzo delle tecnologie e abbiamo dovuto necessariamente fare alcune cose che da tempo avevamo in programma, ma che non riuscivamo a completare. Ci siamo abituati ad avere relazioni online, non personali. Siamo qua, non credo che mai fino al momento di inizio della pandemia avremmo potuto immaginare di fare dei webinar così frequenti e con così tante persone collegate ad ascoltarli, perché era veramente lontano dalla nostra quotidianità. E così abbiamo imparato a lavorare in rete e così abbiamo imparato effettivamente che è necessario, importante poter dialogare, poter accedere ai servizi delle amministrazioni pubbliche online. Vi ricorderete sempre i primi tempi della pandemia, Agid e con l'allora Ministero dell'Innovazione si mise in piedi in 448 una piattaforma sulla quale le imprese potevano fornire servizi digitali, metterli a disposizione dei cittadini. È stata un'iniziativa che ha avuto un riscontro in quei primi tempi in cui non si sapeva come muoversi, non si sapeva cosa fare. Quell'iniziativa ebbe un riscontro enorme. Dopo, quindi nell'estate del 2000, nella primavera del 2021, dopo aver avuto questo periodo così importante, così impegnativo, il legislatore si è reso conto che bisognava fare un passo in più verso il rafforzamento dell'attività dell'agenzia come strumento di ulteriore velocizzazione di supporto verso le pubbliche amministrazioni, rimanendo appunto di ascolto verso il cittadino. E quindi questo ha comportato un cambiamento, una modifica significativa dell'articolo 17 che ad oggi, premessa la prima parte che rimane la stessa e quindi il difensore civico per il digitale, rimane fermo, il difensore civico per il digitale raccoglie le segnalazioni relative a presunte violazioni del codice di ogni altra norma in materia di digitalizzazione e innovazione dell'amministrazione, ma nel momento in cui accerta la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al direttore generale di Agil per l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 18 bis su cui tra poco arriveremo. Quindi l'attività del difensore per il digitale diventa veramente non solo un punto di ingresso, ma un veicolo verso attività ulteriori che in maniera più penetrante potranno portare, cercare di portare le pubbliche amministrazioni ad adeguarsi effettivamente agli obblighi in materia di digitalizzazione. Questo questa attività, come ci siamo detti, le norme sono molto generiche, quindi Agil ha dovuto organizzarsi per poter effettivamente svolgere i propri compiti e quindi sia a partire dal 2017, 2018 e sia poi nel 2021 ha adottato i regolamenti necessari per poter svolgere la propria attività. Parleremo poi dei regolamenti nel dettaglio nel corso dei prossimi incontri. Ciò che possiamo diciamo importante dire oggi è appunto che questo rafforzamento ha portato proprio ad un ruolo diverso del difensore. Quindi il difensore per accertare la non manifesta infondatezza della segnalazione comunque deve fare una sua prima valutazione, una prima istruttoria e poi se è del caso portarla avanti. È molto interessante questa previsione di accertamento di non manifesta infondatezza perché come sapete non manifestamente infondato vuol dire che ancora non so se la segnalazione è fondata ma è sufficiente che ci sia quello che noi giuristi chiamiamo un FOMUS per poi procedere ed andare avanti. Quindi 2021 modifica dell'articolo 17 bis introduzione nel codice dell'amministrazione digitale dell'articolo 18 bis che si intitola che si intitola proprio violazione degli obblighi di transizione digitale e prevede che Agid eserciti poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del codice e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione comprese le linee guida e questo è un passaggio molto importante e le norme contenute nel piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione e poi procede d'ufficio o su segnalazione del difensore civico digitale appunto all'accertamento delle violazioni da parte di tutti coloro che sono destinatari di questi obblighi quindi soggetti di cui è l'articolo 2,2 pubblica amministrazione, gestori di pubblici servizi, società partecipate e quant'altro. L'articolo 18bis prevede molto sinteticamente le attività che Agid deve svolgere nell'esercizio di questi poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio prevede che Agid faccia un'attività istruttoria richiedendo e acquisendo dati, documenti, informazioni tutto ciò che è necessario per completare la propria istruttoria e che poi una volta completata l'istruttoria faccia segnalazioni ancora una volta per eventuali contestazioni disciplinari alle amministrazioni e in alcuni casi applichi una sanzione economica. Come vedete il focus che viene dato una volta premessa, la premessa generale è il monitoraggio, l'accertamento delle violazioni in generale sulla violazione degli obblighi in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione. Poi però il focus, in particolare il focus legato all'applicazione di sanzioni, è un focus su alcuni aspetti specifici. Da un lato abbiamo il focus sul rapporto fra il cittadino e la pubblica amministrazione e qui vengono richiamati i pagamenti elettronici, l'uso del procedimento del fascicolo informatico e l'accesso ai documenti, gli open data, i servizi in rete, l'accesso con l'identità digitale, l'uso del domicilio digitale, la customer satisfaction, la cyber sicurezza e l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobile. Le norme che riguardano questi specifici, questi specifici obblighi, sono espressamente citate nei commi 4 e 5 dell'articolo 18 bis e sono norme la cui violazione comporta anche l'applicazione di sanzioni pechiali. L'altro focus riguarda i rapporti fra Agid e la pubblica amministrazione e quindi qua abbiamo delle specifiche, delle specifiche violazioni legate al mancato riscontro alle richieste che Agid può mandare alle amministrazioni o alla trasmissione di atti, di dati o documenti falsi e incompleti. Diciamo che non è, possiamo dire che forse è triste dover ricorrere alla previsione di sanzioni per la violazione degli obblighi, però è chiaro che può costituire una misura deterrente o comunque un input maggiore per far sì che le amministrazioni si adeguino agli obblighi detti. Agid ha interpretato questo, anche in questo caso Agid ha dovuto fare una regolamentazione di cui abbiamo detto parleremo, parleremo nelle prossime, nei nostri prossimi incontri, quindi ha adottato dei regolamenti disciplinando nello specifico le attività da fare per svolgere i propri compiti, però ha interpretato questo ruolo come un ruolo di, anche in questo caso, di accompagnamento. Quindi l'obiettivo che ci siamo posti nel momento in cui abbiamo adattato i regolamenti non è solo e tanto quello di accertare, contestare e sanzionare, ma proprio quello di avviare e mantenere un dialogo con le pubbliche amministrazioni in maniera da dare un supporto dare un input verso la transizione digitale. E quindi è per questo che sono stati previsti, è stata prevista una sorta di fase cuscinetto dal momento in cui la segnalazione arriva all'ufficio che si occupa degli accertamenti preliminari e poi dell'applicazione delle sanzioni, c'è l'apertura di una fase cuscinetto, di un accertamento appunto preliminare nel quale ancora non si apre un procedimento a carico dell'amministrazione, ma si avvia un dialogo. Si avvia un dialogo con il quale si fa presente che è stato segnalato un problema, che effettivamente il problema sembra essere fondato, la questione sembra essere fondata e quindi si invita l'amministrazione a dire la propria, a dare il proprio punto di vista lo spiegando se ci sono modifiche in corso, se si sta attrezzando, se c'è qualche cosa che invece non torna, quali sono le situazioni? Questo periodo cuscinetto che può andare avanti con un dialogo anche abbastanza lungo permette e ha permesso, e lo vedremo poi parlando dei numeri, di risolvere una serie di situazioni senza la necessità di fare alcun tipo di contestazione e questo noi lo riteniamo certamente un successo, così come già nell'attività del difensore civico digitale ci siamo trovati in molte situazioni nelle quali le amministrazioni hanno poi effettivamente sono corse ai ripari, hanno risolto il problema e quindi non c'è stato neanche bisogno poi di procedere verso l'articolo 18 bis, verso il procedimento dell'articolo 18 bis. A corredo delle violazioni che sono indicate come specifiche, i focus di cui stavamo parlando prima, è importante dire che in questi ultimi anni sono state adottate anche una serie di linee guida che hanno concretizzato effettivamente la possibilità per i cittadini di utilizzare determinate tecnologie. Penso ad esempio a tutte le linee guida che sono state adottate in materia di identità digitale, penso alla piattaforma notifiche che sta avviandosi, penso alla piattaforma nazionale digitale dati che sta iniziando a caricare, penso a effettivamente l'obbligo che è stato introdotto a partire dal settembre 2021 di utilizzare esclusivamente la CIE e SPID nelle interazioni con le pubbliche amministrazioni e quindi dall'altro lato l'obbligo per le pubbliche amministrazioni effettivamente di mettere in piedi laddove non c'erano dei servizi accessibili attraverso questi strumenti. Allora è arrivata una domanda di Antonia Petrucci che chiede se l'identità del segnalante viene tutelata, poi può riprendere perché adesso ce n'è un'altra, intanto se può rispondere a questa segnalo anche la successiva. Sì, assolutamente. Allora l'identità del segnalante se viene segnalato. Allora c'è una cosa da, due cose da dire su questo punto. Allora il primo, il punto importante, importantissimo è che il segnalante è il momento, diciamo il DCD è il punto di ascolto del segnalante perché il segnalante può dare delle indicazioni, ma poi le attività che vengono svolte di accertamento ed eventuale contestazione non riguardano più il segnalante, cioè i procedimenti che si attivano a seguito della segnalazione al difensore civico per il digitale non sono dei procedimenti che vedono il segnalante come parte del procedimento. È come se il segnalante desse l'input, l'input a fare delle verifiche, ma l'obiettivo è quello di portare l'amministrazione a risolvere il proprio problema, non nella gestione specifica del rapporto col segnalante, ma nei confronti della collettività. E quindi assolutamente l'identità del segnalante è qualcosa che conosce Agib, ma che non passa all'amministrazione verso la quale si fa l'accertamento. Per noi la segnalazione è lo spunto di approfondimento. Ci segnalano un problema, verifichiamo se questo problema è vero, ma non è la verifica se il segnalante ha torto o ha ragione nello specifico rapporto con l'amministrazione. Perché per questo, per la gestione della specifica criticità, eventualmente... C'è una domanda successiva. Caro Lazzonino, una domanda un po' lunga perché racconta un po' la sua situazione. Dice, buongiorno, sono appena stata nominata RTP per un ente autonomo, associazione equiparato a un APA per codice ISTAT, ma svolgente attività commerciale senza scopo di luogo. Siamo un teatro. Per il nostro ritardo e per la tipologia della nostra attività, nonostante Mia Sponte cerchi di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, cioè di vedere opportunità, mi pare che la compliance alla transizione digitale secondo Agid per noi sarà un percorso molto difficile. Pensavo di partire con un assessment per capire cosa abbiamo già fatto, ma mi è al momento difficile capire se dobbiamo sottostare a tutti gli obblighi di CAD e piano triennale IT, eccetera, o se c'è un margine discrezionale, uno spazio per le valutazioni del caso, anche per non incorrere in sanzioni. Per la nostra situazione avete suggerimenti o esperienze vincenti simili? Buone prassi. Grazie. Allora, su questo, rispondere a questa domanda così articolata richiederebbe troppo tempo rispetto a quello che abbiamo. Posso dire questo, che alcune informazioni sono reperibili comunque sul sito di Agid, le FAQ, i vari approfondimenti che ci sono. Direi che prendiamo questa domanda, anzi chiedo poi di, ci trasmetteranno le domande. C'è una domanda successiva di Dennis Dem-Yankuk. Attualmente la vigilanza sulla cyber sicurezza non è sottoposta al controllo e alla vigilanza di ACN? La metto da parte questa domanda qua, non per lasciarla cadere, ma per poi far gestire la risposta delle colleghe. Sì, c'è, diciamo che tutto ciò che riguarda la cyber sicurezza è passata all'Agenzia per la comunicazione. Una domanda successiva è di Elisa Sanchini. Salve, avrei bisogno di capire se ci sono segnalazioni per quanto riguarda PA digitale 2026. Nello specifico, la scadenza per il piano di migrazione al cloud era obbligatoria per tutte le PA? Qual è la sanzione in caso di mancata comunicazione? E allora ti proporrei quest'ultima e poi possiamo riprendere la comunicazione e riservare le altre alla fase finale. Francesca Zampa chiede quali sono stati fino ad oggi gli ambiti di segnalazione? Andremo avanti in un secondo momento. Io adesso poi fra poco invece vi farò vedere dei numeri di carattere in generale. Adesso diciamo ci arriviamo, a questo ci arriviamo. Oh, vorrei aggiungere soltanto, arriviamo nel senso che sto per, c'è qualche numero ve lo do fin da adesso, quindi nelle slide, nelle slide a seguire. Altra cosa che mi sembra importante ricordare e che è stata legata all'innovazione che c'è stata nel 2021 dopo aver compreso anche come era il funzionamento, come andavano avanti le cose Agid nel regolamento che ha adottato da ultimo ha anche fatto un'analisi e previsto così come prevedono già altre autorità indipendenti che fanno attività simili alle nostre che non tutte le segnalazioni vanno avanti. Cioè non c'è soltanto un discorso di approfondimento preliminare per valutare la non manifestante infondatezza ma ci sono anche alcune casistiche nelle quali la segnalazione si ferma lì perché è manifestamente infondata o perché è stata già proposta, dicevo prima e questo è molto importante, che il procedimento che parte, l'accertamento che fa il difensore civico digitale non è tanto sullo specifico problema del singolo cittadino quanto è rivolto a far sì che l'amministrazione risolva il problema in linea generale. Questa è la ragione per cui nel momento in cui ci sono segnalazioni ed è capitato perché le segnalazioni sono state molte come vedete, le segnalazioni sono identiche quindi un'attività è già partita non si apre una nuova un nuovo accertamento per accertamenti che già sono stati fatti quindi queste sono ci sono delle casistiche che sono destinate a chiudersi necessariamente. Come vedete dalla slide che stiamo proiettando in questo momento ci sono state delle variazioni nelle segnalazioni tra il 2018 e il 2022 abbastanza significative. Potete vedere che siamo partiti da 99 segnalazioni nel 2018, abbiamo avuto un picco importantissimo nel 2021 di 1061 segnalazioni, potete immaginare l'impatto che questi numeri hanno sulla gestione delle attività perché poi comunque sia anche se l'istruttoria è un'istruttoria rapida ma comunque delle attività vanno fatte nel senso che il difensore oltre ad esaminare quella che è la segnalazione poi fa una verifica presso le amministrazioni che sono state segnalate, una prima verifica presso le amministrazioni che sono state segnalate, dopodiché fa un'analisi, una valutazione anche dal punto di vista giuridico sulla fondatezza perché stiamo parlando dell'applicazione di norme, sulla non manifesta in fondatezza perché stiamo parlando dell'applicazione di norme e poi nel momento in cui si transita verso il 18 bis c'è un ulteriore approfondimento, un ulteriore accertamento. Quindi ognuna delle segnalazioni che arrivano comporta un'attività impegnativa da parte dell'agenzia. Quindi non ci sono segnalazioni che vengono fatte cadere perché sono ignorate, ci sono però certamente come dicevo prima non tutte le segnalazioni poi hanno un seguito. Ci siamo trovati in alcuni con segnalazioni provenienti dalle fonti più varie. Molte sono di cittadini, molte sono invece di rappresentanti di associazioni che ritengono di avere come missione quello di andare a controllare il funzionamento di tutte le amministrazioni e che sono di grande aiuto per certi aspetti ma ovviamente comportano di conseguenza naturalmente anche tutta l'attività l'attività che vi dicevo e ci sono poi ne parlerete meglio con la collega che mi seguirà nel prossimo nel prossimo webinar ci sono anche momenti di picco legati ad esempio all'entrata in vigore di una specifica norma. Faccio un esempio quando nel 2021 è entrata in vigore l'obbligo di utilizzare solo spidocie nella dialogo con le pubbliche amministrazioni ci sono stati gli obblighi erano a partire dall'ottobre del 2021 ma c'era stato un primo termine che era stato previsto nella normativa che era a febbraio 2021 in quel periodo di tempo ancora le amministrazioni non siano tutte adeguate ma dall'altra parte moltissime sono state le segnalazioni che evidenziavano il fatto che alcune amministrazioni le amministrazioni non avevano ancora ottemperato e non erano ancora pronte e disponibili per far accedere attraverso l'identità digitale ai propri servizi. Lo stesso discorso ha riguardato il responsabile per la transizione digitale l'RTD ci sono momenti in cui forse per caso forse perché invece appunto ci sono delle norme che cambiano e posso leggere l'ultimissima prima che riprenda la comunicazione perché riguarda le slide c'è Claudia Medica che chiede il numero e le tipologie di violazioni elencate nelle slide focus cittadino barra PA si ricavano da quale norma? Poi possiamo riprendere con la successiva mezz'ora e rimandare le altre domande alla fine. Allora dice il numero e le tipologie di violazioni elencate fino adesso nella illustrazione si ricavano da quale norma? no dunque la non è non ho se mi può ripetere la domanda perché non non è ma la norma non la norma elenca la norma da indicazione di quelle che sono le violazioni cioè l'indicazione dell'articolo 18 bis come dicevo prima l'articolo 18 bis ha come prima al primo comma recita e fa riferimento alla violazione delle norme in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione comprese quelle contenute nelle linee guida e nel piano triennale. Questo è il cappello, questo è il discorso di carattere in generale. Questo significa che bisogna riferirsi alle norme che prevedono degli obblighi nell'ambito del CAD o dalle linee guida o in norme diverse che non sono CAD ma che prevedono degli obblighi per esempio penso alla legge 4 su 2004 in materia di accessibilità di inclusione che prevede degli obblighi per le pubbliche amministrazioni e non solo o altre norme sparse che riguardano la digitalizzazione che prevedono degli obblighi a carico delle amministrazioni pubbliche o di altri. Dopodiché i commi 4 e 5 dello stesso articolo 18 bis richiamano in particolare alcune alcune specifiche norme o del codice dell'amministrazione digitale o di altre norme e quindi richiamano l'articolo tredici bis, l'articolo cinquanta, l'articolo cinquanta ter, l'articolo sessantaquattro bis comma uno quinquies e e queste sono oppure la la l'articolo sessantacinque del decreto legislativo duecentodiciassette del duemiladiciassette, l'articolo trentatere secchies comma quattro del decreto legge diciotto ottobre duemiladodici numero centosettantanove cioè sono delle norme specifiche rispetto alle quali che io nella mia slide ho richiamato in maniera sintetica perché sono scritte ma ripeto sono temi su cui torneremo nel dettaglio nei webinar che seguiranno quindi vi invito e vi consiglio di partecipare sono norme norme specifiche che hanno ad oggetto quelle quell'elenco ecco qua che avevo indicato nella slide quindi pagamenti elettronici procedimento fascicolo informatico accesso ai documenti open data servizi in rete accesso con identità digitale uso del domicilio digitale customer satisfaction cyber sicurezza accessibilità dei siti web delle applicazioni mobili per i dettagli di quali di quali di quali sono le norme ci torneremo poi il numero e le tipologie delle violazioni su questo adesso sto proprio per avviare alcune alcuni diciamo input alcune piccole alcuni numeri su cui poi si potrà lavorare più dettagliatamente quello che posso dire fin da adesso è che essendo gli obblighi comunque di natura finita anche la tipologia di segnalazioni ha una natura finita anche se poi vengono descritte in vario modo quindi proseguendo abbiamo detto prima che il focus dell'attenzione riguarda il rapporto con il cittadino del tra il cittadino e la pubblica amministrazione e in parte soltanto il rapporto tragica e la pubblica amministrazione il cittadino i diritti del cittadino i diritti di cittadinanza digitale ecco sto vedendo adesso che è stata appena inserita diciamo nella chat il link alla guida sui diritti alla cittadinanza digitale ecco i diritti di cittadinanza digitale sono tanti e articolati il riferimento base è quello della possibilità di interloquire con la pubblica amministrazione attraverso le tecnologie dell'informazione della comunicazione ma questa possibilità di interlocuzione ha applicazione in moltissimi campi molti e diversi campi e la concretizzazione di questa cittadinanza digitale passa necessariamente attraverso la realizzazione la disciplina e la realizzazione di strumenti concreti e operativi il fatto di avere un'identità digitale è uno strumento che consente di attuare quel diritto alla relazione con l'amministrazione attraverso le tecnologie dell'informazione della comunicazione ripeto ci sono alcuni aspetti che noi oggi diamo assolutamente per assodati ma quando il codice dell'amministrazione digitale è stato emanato quindi la prima volta nel 2006 finché sei in cui si parlò di cittadinanza digitale ancora non c'era praticamente nulla e quindi era è stato necessario costruire gli strumenti è stato necessario è stato necessario capire prima ancora che costruire gli strumenti è stato necessario capire che tipo di strumenti si potevano mettere in funzione perché attenzione ricordiamoci sempre che quello che è normale diciamo nella gestione di un rapporto di un rapporto diretto di un rapporto personale il fatto di parlarsi il fatto di vedersi il fatto di consegnare un documento sono attività che sono banali nel chiamiamolo mondo reale ma per essere realizzate altrove per essere realizzate nel sistema digitale richiedono una progettazione molto strutturata molto complessa richiedono connessione rapporti di collegamento fra le pubbliche amministrazioni penso al lavoro enorme che è stato fatto in questi anni con inizialmente con la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni poi con il sistema pubblico di connettività ci sono connessioni di tutti i generi che vanno messe in piedi e strutture che vanno realizzate disciplinate e organizzate tenendo conto di quello che è l'impatto rispetto alla vita normale di quello che è l'impatto sull'organizzazione e di quelli che sono i rischi rispetto al trattamento di dati personali ad esempio rispetto alla sicurezza informatica e così via tipologia di segnalazioni qua è soltanto quello che vi sto mostrando adesso è soltanto sono soltanto i numeri del 2022 come vedete c'è una sono raggruppate questa delle segnalazioni sono raggruppate per tipologia abbastanza generale quindi abbiamo la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione il domicilio digitale l'identità digitale i pagamenti informatici in generale l'uso delle tecnologie altre che sono diciamo più puntuali e che quindi non sono facilmente classificabili e e poi situazioni non classificabili del tutto perché naturalmente nel momento in cui c'è un canale di comunicazione aperto e di accoglienza rispetto al cittadino arrivano anche delle segnalazioni che non sono di competenza di agid arrivano anche c'è anche chi si lamenta della mancata risposta specifica di un'amministrazione piuttosto che di una o del fatto che ehm il fornitore di servizi che magari un fornitore privato a cui il CAD non si applica non non gli ha non gli ha consentito di avere ehm gli strumenti idoni nel momento giusto cioè ci sono situazioni le situazioni più varie perché possono esserci ci sono ovviamente anche complessità come dicevo prima nella nella gestione di tutte queste di tutte queste attività quindi ecco nel duemilaventidue abbiamo avuto direi eh un picco legato ancora all'uso dell'identità digitale abbiamo detto che nel duemilaventuno dal primo ottobre duemilaventuno l'uso dell'identità digitale è obbligatorio ehm e sostituisce ha sostituito i vecchi sistemi di utilizzo delle credenziali e quant'altro il fatto che ci sia un picco di segnalazioni il diciotto per cento sull'identità digitale vede proprio la difficoltà che forse c'è stata per alcune amministrazioni di adeguarsi per tempo e vediamo ecco subito dopo è interessante anche notare la tipologia dei soggetti segnalati pubbliche amministrazioni centrali il maggior numero di soggetti segnalati ma anche è anche normale data la numerosità di questi stessi sono le pubbliche amministrazioni locali le pubbliche amministrazioni centrali però non è che si distaccano moltissimo come numero dopodiché eh le società in house e i gestori di pubblici servizi e altri soggetti indeterminati rispetto a queste segnalazioni va anche e e questa diciamo i soggetti segnalati va anche detto che è capitato di ricevere più segnalazioni nei confronti di una singola amministrazione così come è capitato di ricevere segnalazioni seriali che riguardavano più pubbliche amministrazioni ma sempre lo stesso argomento punto speed piuttosto che qualcos'altro oppure il ministero y y o la il comune x y che riceve numerose segnalazioni per attività e situazioni diverse e che evidentemente manifesta in questo essendo destinatario di molte segnalazioni manifesta di essere molto indietro in generale sulla digitalizzazione adesso vedremo poi parleremo poi di come vengono affrontate da questo punto di vista da agid nella fase successiva del 18 bis nel eh l'altro aspetto interessante mi sembra interessante ne parlo soltanto per il 2022 è la destinazione l'esito di queste di queste segnalazioni come vedete ehm solo una parte delle segnalazioni ehm solo una parte delle segnalazioni va avanti alcune vengono archiviate dopo l'istruttoria perché magari si risolvono in questo periodo di tempo cioè molto spesso succede che l'amministrazione una volta avuta l'indicazione dal difensore civico digitale si rende conto magari che il problema è risolvibile facilmente e procede immediatamente quindi molte segnalazioni vengono archiviate dopo l'istruttoria alcune perché c'è un adempimento altre perché invece risultano manifestamente infondate una parte va invece direttamente viene archiviata direttamente perché eccessiva per eccessiva genericità per l'assoluta mancanza di elementi informativi oppure come dicevo prima perché c'è un'identità fra le segnalazioni che arrivano e segnalazioni precedenti che già sono partite per le quali già magari c'è un procedimento e quindi rispetto alle quali le amministrazione segnalata già è oggetto di attenzione e già sta lavorando per per fare i cambiamenti che sono necessari una volta che il difensore civico digitale ha completato il suo passaggio ha completato le sue verifiche e ritiene che la segnalazione non è manifestamente infondata la passa la trasferisce per l'esercizio degli obblighi delle attività relative all'articolo 18 bis quindi la norma sulla violazione degli obblighi di transizione digitale come vi dicevo prima il ciò che accade immediatamente è l'apertura di questo accertamento preliminare cioè di questa fase cuscinetto nella quale si assiste l'amministrazione sostanzialmente cioè si cerca di guidarla per adempiere per andare e compiere quello che realizzare quello che deve realizzare le fonti quindi per quanto riguarda l'articolo 18 bis per quanto riguarda i procedimenti articolo 18 bis le fonti sono le segnalazioni del difensore civico digitale o qualunque altro tipo di segnalazione di input che può arrivare tale da attivare l'agenzia d'ufficio rispetto all'accertamento come detto l'obiettivo dell'obiettivo è avviare di questa fase di accertamento preliminare avviare le prime interlocuzioni raccogliere informazioni da parte approfondite da parte dell'amministrazione e sensibilizzarla e guidarla verso l'adempimento in questa fase quindi nella nell'istruttoria che si fa in questa prima fase c'è un approfondimento anche giuridico importante spesso la segnalazione dell'inadempimento specifico è la punta dell'iceberg di un problema più grosso o in alcuni casi rappresenta una problematica è possibile che sia rappresentata una problematica che va analizzata non soltanto con riferimento alla specifica segnalazione di violazione ma in maniera più ampia perché le norme del cad sono interconnesse penso tra di loro e con altre norme penso ad esempio al rapporto che c'è fra le banche dati di interesse pubblico e gli obblighi di disponibilità che devono transitare dovranno transitare a breve essere e andare sulla pdnd e gli obblighi e quanto quanto previsto dall'articolo 50 in materia di disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni gratuitamente o quanto previsto dalla normativa sugli open data che riguarda il riutilizzo dei dati del settore pubblico anche da parte di soggetti privati anche per ragioni di carattere commerciale sono norme diverse che però trattano degli stessi temi anche se da punti di vista diversi quindi ci sono situazioni nelle quali occorre capire effettivamente in concreto qual è il problema e capire effettivamente come si possa risolvere se ci sia un conflitto che bisogna evidenziare se ci sono altri profili da tenere in considerazione su tutti c'è sempre la tematica del trattamento dei dati personali che si intreccia sempre comunque con le tematiche della digitalizzazione di cui non si può fare a meno e rispetto a cui poi ci sono altre norme di riferimento un'altra autorità di riferimento e quindi diciamo l'analisi può essere articolata considerato che l'obiettivo di agid è quello di portare avanti la transizione digitale anche nella gestione di questa fase si è ritenuto opportuno quando quando possibile fare degli accorpamenti fra le attività e quindi può esserci un procedimento un accertamento preliminare che viene aperto con riferimento a più amministrazioni sullo stesso argomento la nomina dell'RTD la l'iscrizione in IPA e così via oppure una sola amministrazione che ha più segnalazioni provenienti da diverse parti relative a diverse attività questo può accadere anche con riferimento ai ministeri immaginate il ministero della giustizia e le segnalazioni che possono arrivare rispetto alle attività svolte sempre il tema di digitalizzazione ovviamente nei vari tribunali in giro per l'Italia quindi potete immaginare che in alcune situazioni o stesso discorso per il ministero della salute e ciò che accade e le problematiche che possono verificarsi rispetto alle ASL sparse sul territorio quindi sono ci sono amministrazioni che fisiologicamente sono destinatarie di diverse segnalazioni perché l'erogazione dei servizi digitali sul territorio sconta delle complessità significative come si conclude l'accertamento preliminare dicevo prima che l'accertamento preliminare non è l'apertura di un procedimento a carico ma è questa fase interlocutoria la conclusione dell'accertamento preliminare può portare ancora una volta ad un'archiviazione quindi alla chiusura del problema oppure all'avvio del procedimento di accertamento vero e proprio l'apertura del procedimento con tutto ciò che consegue e l'accertamento che viene svolto da un altro ufficio dell'agenzia dall'area vigilanza l'archiviazione anche in questo caso poi vedremo qualche numero qualche numero recente può derivare dalla analisi di fondatezza a quel punto certa quindi un approfondimento ulteriore che viene fatto oppure dal fatto che l'amministrazione ottempera le richieste che le vengono fatte la fase successiva di accertamento e qua però sono veramente due parole perché ne parlerete nel prossimo nel prossimo webinar nell'accertamento cioè si svolge un avere proprio un istruttore avere proprio il contraddittorio e all'atto di all'istruttoria può conseguire l'atto di accertamento una diffida da adempiere formale ancora una volta quando il problema si risolve un'archiviazione oppure si può proseguire nella fase successiva che comporta che comporta poi la contestazione della violazione amministrativa se ci sono gli estremi perché siamo ricadiamo nell'ambito delle norme di cui vi ho parlato prima c'è l'applicazione della sanzione proponiaria diversamente c'è soltanto c'è soltanto si fa per dire la segnalazione agli uffici competenti per le contestazioni disciplinari è chiaro che poi le contestazioni disciplinari dovrà alle contestazioni disciplinari dovrà pensare l'amministrazione presso cui è incardinato il soggetto e non è Agit che pensa a questa parte sempre 2022 per quanto riguarda l'articolo 18 bis il 2022 è stato l'anno di partenza noi abbiamo avuto la norma è stata inserita nel codice dell'amministrazione digitale nell'estate del 2021 Agit si è dotata del regolamento necessario nel corso del 2021 ha avviato le prime attività a fine 2021 ma poi è il 2022 quello che è stato l'anno in cui effettivamente abbiamo iniziato il lavoro gli accertamenti preliminari che sono stati aperti nel 2022 sono 85 ma seguendo quel principio che vi dicevo prima cioè un accertamento non necessariamente riguarda una singola amministrazione ma può riguardare più amministrazioni per lo stesso tipo di violazione oppure può riguardare una singola amministrazione con riferimento a più violazioni le amministrazioni coinvolte in questi accertamenti preliminari nel 2022 sono state 9361 non è un numero banale da gestire ed è anche diciamo per dare ed è interessante per dare comunque la panoramica di queste accertamenti preliminari quindi adesso torno a parlare dell'accertamento e non della singola amministrazione sono stati archiviati 41 accertamenti preliminari perché la violazione è stata eliminata direi che diciamo considerato che il 50% dei fascicoli aperti è un buon risultato un buon risultato perché ripeto si fa capì si capisce come ci sia il riscontro da parte delle amministrazioni questa è per noi la cosa più importante è estremamente ridotto invece ancora per adesso l'avvio dei procedimenti di accertamento formali nei confronti delle amministrazioni i suoi procedimenti di accertamento avviati poi sono sono in corso e ci sono le attività successive che escono di scena dall'ufficio dall'ufficio che io sento e che poi vengono svolte da altro ufficio dell'agenzia le segnalazioni a cui si è dato seguito per l'apertura degli accertamenti preliminari sono prevalentemente le segnalazioni provenienti da cad ma anche dal difensore civico al per il digitale ma anche segnalazioni provenienti dalle altre amministrazioni due grossi temi hanno riguardato l'implementazione del nodo aedas presso le amministrazioni e la trasmissione all'agenzia per la cyber security dell'elenco e per la classificazione dei servizi cloud vedete che diciamo quest'anno a seguito della delle ultime modifiche normative i servizi devono devono andare devono andare in cloud e bisognerà fare bisogna fare la segnalazione dei servizi critici secondo criteri che sono poi stati adottati da cn i regolamenti che sono stati da cn ok io diciamo su con le slide allora metto le domande nel box visibile ai relatori sotto il contatore ce n'è già una se vuole rispondere intanto poi seleziono le altre continuare a parlare io alla quota libera possiamo invece approfondire temi che sono stati proposti nelle domande allora agit usa dei bot o intelligenza artificiale per monitorare alcuni parametri delle pubbliche amministrazioni italiane siti api eccetera no in questo momento la maggior parte del monitoraggio viene fatto manualmente chi fa un monitoraggio più puntuale e quindi utilizzando diciamo invierà l'utilizzo di alcuni strumenti è legato al tema dell'accessibilità siccome come detto quello che fa agit e recepire le segnalazioni di difensore civico digitale ovviamente non è non è non c'è un monitoraggio di carattere di carattere generale poi ci sono servizi della pubblica amministrazione che non sono rivolti direttamente ai cittadini ad esempio servizi rivolti ad altre pubbliche amministrazioni la norma non è chiara i requisiti qua stiamo parlando di che cosa i requisiti di accessibilità si applicano anche in questi casi cioè qua stiamo parlando di che cosa degli obblighi della legge 4 2004 una domanda non è chiarissima quindi magari specifichiamola ma quello che riguarda gli obblighi in materia di accessibilità per le pubbliche amministrazioni è individuato nella normativa specifica legge 4 2004 e nella nelle linee guida che sono che sono pubblicate invito a controllare sul sul sito di agit quello che riguarda l'accessibilità la norma non è chiara purtroppo il legislatore spesso non è chiaro quindi questo è qualcosa su cui poco possiamo fare possiamo e in alcuni casi lo abbiamo fatto quando si è ritenuto necessario dare delle interpretazioni l'obbligo altra domanda l'obbligo dell'utilizzo dell'identità digitale implica esclusivamente l'autenticazione tramite speed c è sufficiente anche un'autenticazione del doppio fattore beh l'articolo 64 è abbastanza chiaro veramente l'articolo 64 dice un attimo che lo prendo così lo commentiamo lo commentiamo insieme ma l'articolo 64 allora lasciatevi un attimo il tempo perché l'articolo 64 come vigente oggi sistema pubblico dell'identità della gestione di identità digitali modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni dice che articolo 24 l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite speed nonché tramite la carta di identità elettronica quindi la norma in questo caso è abbastanza chiara e poi i gestori di pubblico servizio sono obbligati a garantire l'accesso ai cittadini al proprio portale tramite spici e quelli che sono servizi pubblici laddove diciamo si rientri si rientri nell'articolo 2 comma 2 bis a tutto a tutto tondo sì poi altre domande domanda sulla postilla elettronica possono essere accettati atti apostillati elettronicamente trasfesti all'ufficio competente tramite pec anche relativi a questi altri stati diversi all'argentina direi che dovranno essere oppure si aspetta una segnalazione conseguente nota specifica nei confronti del maeci allora la valutazione qua stiamo parlando quindi di di relazione fra l'italia e paesi e paesi non europei necessariamente per poter considerare se gli strumenti messi a disposizione dal paese extraeuropeo sono effettivamente valutabili come analoghi rispetto a quelli utilizzati in italia e in europa non è sufficiente dirlo ma occorre approfondirlo ed esaminarlo e quindi è necessario che ci sia comunque un'istruttoria un'istruttoria dedicata altri stati che hanno implementato l'uso della postilla elettronica direi che questo va oltre è una domanda che va oltre che va oltre il webinar quindi potremmo aprire forse eventualmente potremmo dedicare un webinar apposta a tutto quello a quella che è la relazione fra ehm l'amministrazione e la digitalizzata italiana e le amministrazioni o i cittadini residenti in altri in altri stati poi quali sono altra domanda quali sono le norme che obbligano alla pubblicazione degli open data o sono solo raccomandazioni allora no gli open data non sono delle raccomandazioni allora innanzitutto abbiamo la decreto legislativo 36 il 2006 che trattava ha trattato per la prima volta del pubblicazione diciamo della disponibilità dei dati del settore pubblico fu all'epoca una norma molto innovativa rispetto a quello che era il panorama delle attività ehm che si svolgevano perché c'era tradizionalmente una certa difficoltà da parte delle pubbliche amministrazioni di condividere le proprie informazioni all'esterno ma anche fra pubbliche amministrazioni in parte questa difficoltà era anche legata ad alcune norme che sembravano riguardare che sembravano essere determinanti rispetto al non favorire la comunicazione delle informazioni l'ultima modifica alla normativa in materia di open data è stata introdotta nel gennaio del 2022 non decreto legislativo 200 del 2021 mi pare ed è l'attuazione proprio della cosiddetta direttiva sugli open data e ci sono poi le norme del cad che richiamano ehm che richiamano specificamente che si richiamano specificamente questi temi allora direi adesso per come discorso di carattere generale direi che ci sono due profili fondamentali che riguardano gli open data uno attiene al formato cioè la effettiva disponibilità delle informazioni in maniera eh con una tecnologia adeguata insufficientemente neutra da potersi scaricare i dati e poterli rivedere in qualunque situazione quindi un profilo riguarda la tecnologia la modalità con cui i dati vengono pubblicati un altro profilo invece riguarda il riutilizzo e quindi qua entra in vigore soprattutto ehm il la cosiddetta direttiva sugli open data e il riutilizzo anche da parte di privati e non soltanto di pubbliche amministrazioni e le eventuali licenze la tipologia di licenze da utilizzare da utilizzare per mettere questi dati a disposizione un terzo profilo ancora riguarda invece la gratuità dell'accesso o e di riutilizzo o la necessità possibilità necessità da parte delle amministrazioni di ottenere un ristoro economico rispetto ad eventuali attività specifiche ed elaborazioni specifiche che vengono svolte poi l'autenticazione tramite cns va a morire al momento richiamo ancora una volta la norma eh dunque sempre l'articolo sessantaquattro l'articolo sessantaquattro la cns è ancora prevista come sistema di accesso in rete assolutamente sì adesso scusate ma non trovo non trovo scusatemi non trovo il testo comunque sì no ancora la carta nazionale eh eccolo qua l'accesso può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi quindi la comma due sexies che rinvia la comma due quater la differenza fra la carta diciamo la il diverso trattamento se così vogliamo dire sta al momento nella differenza fra i vari strumenti cioè c e c e speed sono sistemi proprio di sono identità digitali vere e proprie la carta nazionale dei servizi è più legata anche diciamo alla fornitura di certi tipi di servizi da parte di certi tipi di certe amministrazioni alle società in house che non offrono servizi ai cittadini si applica la disciplina sull'accessibilità cioè mi pare di capire che l'accessibilità è uno degli argomenti che sta più a cuore e rinvio ancora una volta alle previsioni normative nel senso che le società in house sono tra i soggetti a cui si applica la normativa e per quanto riguarda l'accessibilità noi stiamo parliamo ovviamente come agil soltanto di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili aperte al pubblico con le caratteristiche con le indicazioni che sono state destinate al pubblico con le caratteristiche e le indicazioni che sono previste dalla legge che sono state indicate nelle sono indicate in parte nelle linee guida e di recente con riferimento per ai privati sono state esplicitate anche con una circolare che è stata data di interpretazione rispetto agli obblighi agli obblighi dati ai privati mi risulta che lo speed rimarrà solo fino ad aprile non credo di avere la palla di vetro ma non credo che ci siano state dichiarazioni in questo senso da nessuna parte al momento lo speed è vivo e vegeto possiamo dire questo e anzi a proposito di speed mi sembra lo sapete sicuramente perché sono numeri che non sono nuovi ma al momento sono vi sono circa 33 milioni di speed e nel 2022 ci sono stati oltre un miliardo di accessi quindi parliamo di numeri estremamente importanti non ci sono gli stessi numeri in nessun altro paese con le identità di nessun altro paese allora domanda anche se l'obiettivo dell'azione di agido non è quello di risolvere il problema specifico del cittadino segnalante ma quello di guidare la pubblica amministrazione a risolvere i problemi di inadempienza che hanno una ripercussione generale il segnalante viene informato sull'esito del procedimento sì e no cioè viene informato su quello che è l'esito della sua segnalazione e quindi la segnalazione al difensore civico digitale viene informato del fatto che ci sarà un seguito o del fatto che c'è stato un provvedimento c'è stata un'archiviazione non viene però tenuto nel loop nella fase successiva perché come detto la fase successiva del procedimento non riguarda la segnalazione in quanto tale ma riguarda l'obbligo dell'amministrazione di adeguarsi e di adempiere agli obblighi di carattere generale previsti in materia di digitalizzazione questo è importante perché non sempre non sempre è stato chiaro poi non so se ci sono altre altre domande un commento sulla notizia apparsa su ipa che tipo di commento si aspetterebbe su questa su questa informazione non non mi è chiaro possiamo dire su ipa che ipa è nato come indice delle pubbliche amministrazioni allora come molti strumenti previsti dal codice di amministrazione digitale quindi adesso penso a ipa ma penso alla posta elettronica certificata anche e altre situazioni cioè ci sono delle ci sono degli strumenti che sono stati pensati in un momento storico in cui si dirigevano in cui il contesto le richiedeva per certe attività ma che poi si sono evolute nel tempo si sono evolute nel tempo trasformandosi in qualcosa di diverso penso alla posta elettronica certificata la posta elettronica certificata era nata esclusivamente come strumento di comunicazione senza che consentiva di dare la certezza del momento della partenza dell'invio di una comunicazione nel momento della ricezione e nient'altro nel corso del tempo con i cambiamenti che ci sono stati quindi con l'utilizzo che è stato fatto della posta elettronica certificata è diventato qualcosa di diverso e quindi è diventato qualcosa di diverso per cui si è posto il problema che adesso si risolve con il recapito elettronico certificato AIDAS di garantire l'identità del titolare della casella di posta elettronica cosa che invece nei primi tempi nessuno si era posto come come problema lo stesso discorso per per l'ipa era nato semplicemente come un indice adesso è lo strumento sul quale c'è il domicilio digitale dell'amministrazione ci sono è lo strumento attraverso da cui si parte per l'iscrizione si parte per poi fare delle altre attività quindi ci sono delle evoluzioni ci sono state delle evoluzioni nel corso del tempo che portano anche necessariamente inevitabilmente ad un'evoluzione dello strumento stesso ho sulle segnalazioni sulle segnalazioni sulla tipologia di segnalazioni sul numero di servizi esposti sulla criticità delle segnalazioni vi rinvio al webinar del 17 che sarà dedicato proprio al difensore civico digitale bene c'era stato vedo un problema di disconnessione a proposito di accessibilità però poi si è risolto bene io credo che se non ci sono domande particolari possiamo andare tutti a pranzo e vi invito vi invito a partecipare ai prossimi ai prossimi webinar proprio perché oggi come vi ho detto all'inizio lo ribadisco lo ribadisco adesso la nostra intenzione è quella di approfondire gli argomenti e per questo abbiamo pensato a un ciclo di tre webinar oggi il mio intento era soltanto quello di darvi una prima panoramica tra l'altro non vi ho commentato più di tanto le norme perché le norme sono certe che le conoscete perfettamente volevo dare una visione di carattere generale ma poi tutti gli approfondimenti saranno sui due webinar tematici quello dedicato al difensore civico digitale il 17 marzo e quello dedicato all'articolo 18 bis il 24 marzo benissimo allora ringrazio moltissimo l'avvocato Filippo che ha fatto anche una parte per me quindi ha sollecitato l'appuntamento per i prossimi webinar sappiate appunto che in questi due appuntamenti troverete anche ulteriori risposte alle domande che avete fatto e anche ulteriori esempi proprio come ci raccontava la nostra esperta io vi ricordo che per qualsiasi riferimento relativo al webinar di oggi quindi per i materiali, per le slide che sono state presentate e per la registrazione del webinar il vostro riferimento rimane sempre la pagina di eventi PA da cui vi siete iscritti per il webinar del 17 vi proporremo il programma di dettaglio più avanti sapremo appunto i relatori e vi daremo anche un ordine degli interventi intanto possiamo chiudere anche con 5 minuti di anticipo perché alle domande diciamo abbiamo l'avvocato Filippo che ha già risposto e alcune se le riservate come approfondimento appunto per i webinar successivi io vi ringrazio e vi do appuntamento a venerdì prossimo grazie mille, grazie a tutti grazie alla nostra esperta grazie a tutti